questo anche è un'altra cosa molto simpatica questo giocatore non lo conoscono nemmeno a Como perché la settimana scorsa questo Hans Mirneg era un terzino anche questo è preso dalle figurine panini era un terzino che arrivò a Como nell'81 la settimana scorsa mi ha chiamato una televisione di Como per farmi un'intervista per parlare del libro e mi disse ma questo era un giornalista sportivo è un giornalista sportivo e mi ha detto ma c'è qualche giocatore al Como? sì ce n'è uno si chiama Mirneg ah sì non l'ho mai sentito ma quando ha giocato quindi lui comunque che è del corriere di Como quindi avrebbe dovuto conoscerlo eppure ci sono giocatori che nemmeno chi li ha in teoria vissuti se li ricorda perché comunque soprattutto nelle menti dei giornalisti o di tante persone questi giocatori vengono un po' rimossi dalla mente eh esatto ha maggior ragione e si racconta che questo giocatore in realtà preferiva lo sciare tant'è che si racconta che c'era Franz Klammer mi pare che era un famoso sciatore degli anni 70 che lui conosceva molto bene e si allenavano insieme perché comunque l'Austria è terra innevata alla fine però vuoi per gli alti costi perché comunque è uno sport costoso si dilettò al calcio ai risultati forse sarebbe stato meglio che avrebbe sciato la stessa cosa si racconta di questo giocatore Rudy che è norvegese arrivò al Perugia nel 99 anche lui uno dei tantissimi stranieri a basso prezzo che prese il famosissimo Gaucci che poi è scappato a Santo Domingo in seguito al suo crack finanziario e adesso è tornato in Italia e pare che voglia prendere qualche squadra parlava addirittura del Palermo bisogna vedere se Zamparini è d'accordo e anche questo Rudy pare che fosse molto più bravo con Asciari piuttosto che giocare a pallone tant'è che si racconta che venne in Italia non giocò un granché Gaucci però vide una partita in cui lui giocò con la nazionale norvegese contro il Brasile giocò magnificamente e si incazzò veramente perché dice ma come qua in Italia giochi malissimo e nazionale ma ammazzi addirittura il Brasile e allora lo cacciò si racconta a calcio in culo non si sa se è vero però sono le leggende metropolitane che si raccontano e si tramandano grazie a tutti